L'amministrazione comunale di Subbiano ha ricordato la giornata nazionale delle vittime del Covid-19 con un minuto di silenzio, insieme ad una rappresentanza della Polizia Municipale e dell'Arma dei Carabinieri della locale stazione guidata dal maresciallo, luogotenente Fabio Rizzo. È una giornata particolare, quella di oggi, dedicata al ricordo delle vittime del coronavirus. La prima giornata che adesso è stata istituita con la legge statale, a seguito della quale si è voluto dare un giusto riconoscimento e doveroso riconoscimento a tutte le persone che purtroppo sono state sagnate da questo tipo di malattie e hanno pagato con la propria vita gli effetti di questa malattia. È una giornata istituzionale a cui tutti i comuni sono stati chiamati a contribuire dietro un invito che ci è stato fatto direttamente dal presidente del Lanci e al quale chiaramente anche il comune di Subbiano ha partecipato. Riteniamo doveroso dover effettuare un momento anche di semplice raccoglimento se non altro per il rispetto dovuto a chi purtroppo si è trovato in questa situazione e anche a chi ad oggi si trova a combattere con questo tipo di malattia perché se è vero che purtroppo molte persone non ce l'hanno fatta la malattia è comunque una malattia che a tutt'oggi è ampiamente diffusa e che purtroppo anche nella nostra popolazione e anche nel nostro territorio comunale sta incidendo. Ovviamente la situazione per quello che riguarda l'aspetto prettamente istituzionale viene celebrata oggi a Bergamo alla presenza appunto del presidente del Consiglio dei Ministri che si reca proprio in questi stessi momenti ad effettuare una visita sui luoghi che furono teatro l'anno scorso della prima grossa epidemia. Ci ricordiamo tutti il passaggio dei camion militari che portavano via innumerevoli feretri di persone che purtroppo già in quei primi giorni non ce l'avevano fatta. È stato un momento veramente toccante quello a cui tutti noi abbiamo assistito l'anno scorso e purtroppo sono immagini che non avremmo mai voluto vedere ma sono immagini che al tempo stesso ci riportano ad oggi ad un anno esatto di distanza ad una memoria che invece è giusto dover conservare anche perché viviamo costantemente ancora sotto questo pericolo incombente. È un pericolo che a volte subdolo, a volte si insinua nelle nostre esistenze quando meno purtroppo noi ce l'aspettiamo. Riteniamo comunque doveroso dover effettuare un momento di chiamata per tutta la popolazione anche la popolazione del nostro comune all'osservanza veramente delle più elementari regole di tutela e di autotutela a cui appunto siamo chiamati. Siamo in questa situazione effettivamente da un po' di tempo. ognuno di noi è chiamato a dover assolvere comportamenti responsabili ognuno di noi è chiamato a fare per se stesso e per gli altri ma soprattutto a cercare di dare un esempio per quello che rappresenta oggi un comportamento responsabile per la tutela di confronti di questa malattia. In questa giornata istituzionale sono chiamato a rappresentare l'amministrazione comunale il luogo della sindaca Elare Mattesini che purtroppo oggi non può essere presente purtroppo come voi saprete Ilaria proprio in questi giorni lei stessa è coinvolta pienamente in questa situazione ovviamente la nostra sindaca sta bene e ci manda costantemente dei messaggi di aiuto e di conforto però purtroppo la malattia le impedisce di poter essere oggi fisicamente presente avrei voluto infatti non poter non essere qui avrei voluto che lei stessa meritatamente si celebrasse questa giornata sono comunque dovuto intervenire e lo faccio con estremo piacere perché per richiamare alla nostra popolazione a un comportamento che effettivamente sia consono ai nostri doveri ai nostri doveri innanzitutto come cittadini e come uomini ognuno di noi è chiamato ad assolvere le proprie funzioni sociali nel miglior modo possibile ognuno di noi è chiamato ad avere un comportamento responsabile nei propri ambienti familiari, sociali ognuno di noi è chiamato ad osservare queste semplici regole di convivenza civile che effettivamente sono regole di convivenza civile affinché tutti insieme si possa combattere contro questo tipo di malattia con la speranza poi che la nostra popolazione possa essere vaccinata tutta in tempo utile senza dover subire a lungo le conseguenze di questa epidemia che purtroppo ci sta coinvolgendo